Una volta che poteva farlo la Presidenta, la mia presentazione si è defilata. Benvenuti a tutti. Oggi sono molto agitata, lo sapete, ho presentato migliaia di libri qui, questa è la mia plazza, la mia libreria, ma fare le cose mie mi mette tantissima agitazione, non emozione, non si può essere emozionati, ma agitati sì, anche perché ci sono le persone a cui voglio più bene, mamma compresa, mi aspettavo che venisse, mio figlio che appunto abbiamo... E quindi l'agitazione è tanto. Ringrazio, io ci sto, conoscete tutti quanti la libreria, il nostro pare, il nostro essere volontari, sperando che si vada sempre più in alto, che si associino sempre più persone. Ringrazio Sergio, che... C'è voluto stare lui, è lui che me l'ha chiesto, è lui che mi ha detto per te lo voglio fare. Io... Sento il microfono. Caratterialmente non chiedo mai, mi dà fastidio chiedere, e dall'altra parte aspetto che le persone che mi vogliono bene mi diano. Questo è un difetto grandissimo. E Sergio c'è, come vedo tante persone, Carlo, che ci sono, e veramente sono felicissima ed emozionata per la presenza di ognuno di voi. Ringrazio Rosy, che ieri mattina era qui, e io con il suo libro bellissimo, finalmente ha fatto questo salto incredibile, con questo libro meraviglioso. Io non ci sono potuta essere perché ero a scuola, io l'ho detto, però me lo autograferà oggi. Più di tutti, chiaramente, ringrazio la Tiziana, che mi ha spinto a scrivere questo libro, perché abbiamo incominciato a scriverlo quando io neanche sapevo che avrei mai pubblicato nella mia vita. Non credevo mai di diventare... Dicono che non si è scrittrici se non si mangia con i libri, se non si mangia con i libri, se non si mangia con le storie. Però comunque chi mette la penna sul foglio alla fine è uno scrittore, un autore, non so come lo vogliamo chiamare, perché noi dedichiamo tempo alla scrittura, dedichiamo salute, dedichiamo impegno, e quindi alla fine, solto morto, scrittori lo siamo. E tu mi hai stronata, sei stata tu a incominciare a voler fare questa cosa, a voler giocare, perché è stato un vero e proprio gioco. Io ci sto, dico solo due parole. Ve l'ho detto prima, siamo una libreria di volontari, ma per stare qui la conoscete tutti. Aiutateci anche solo venendo a comprare libri da noi. Questa è l'unica cosa, il nostro libro lo trovate dentro, ve lo autograferemo. E adesso lascio la parola a uno dei due o a Tiziana, perché io ho il cuore a me. Allora, buongiorno a tutti, io sono felicissima di essere qui, se avessi potuto una brandina, perché tra ieri, oggi e anche domani, comunque c'è un'unica cosa, c'è un'unica cosa, c'è un'unica cosa, c'è un'unica cosa. Io ci sto naturalmente, perché questo è un luogo straordinario, un luogo potente, di grande forza, ha aperto di nuovo la presentazione dei libri, la scrittura, la parola, che è indispensabile per noi, per chi fa questo mestiere, non parlo solo degli scrittori, anche uno dei giornalisti, chiunque, insomma, che ha un luogo, eccetera, chiunque abbia un legame con la scrittura, le presentazioni, diciamoci la verità, sono fondamentali, vuol dire, live, vuole dare presenza, perché bisogna guardarti negli occhi, questo è troppo ai miei, le presentazioni online non ce le va. Allora, io sono qui con un grande entusiasmo per il lavoro di... Ah, questo adesso sento meglio, eh? Sì. Eh, per il lavoro di Federica e Tiziana, che è una maledice, questo è un romanzo, io voglio dire una piccola cosa, sei anni fa, ma devo dire questa volta, sono stata a cena a casa di Tiziana, e arrivò una mail. Tiziana, aprile, si è assentata un attimo, pensi, lui, sono guardati. Ed era una delle prime mail, perché mi dico, insomma, posso dirla questa cosa? Cioè, l'una non sapeva cosa scrivesse l'altra. Per cui, improvvisamente, è nato come un gioco questo lavoro, quest'opera, e poi è diventato qualcosa di serio, perché scriveva Federica, di rimando, quindi mail, quindi Federissina al testo, di rimando Federica scriveva, rispondeva, scusate, Tiziana rispondeva, e ancora Federica, quindi c'era questo gioco, questo rimpallo, quindi queste quattro mani, poi alla fine, sono diventate un romanzo importante, molto bello, molto profondo, perché è un romanzo pieno, io lo considero un contenitore pieno, pieno di sentimenti, cioè c'è l'amore, la passione, c'è l'odio, la delusione, tutto quello che appartiene singolarmente ad ognuno di noi è presente in questo libro. Oltretutto, scorrendo con le pagine, si nota, e man mano leggendo le mail, si nota proprio questa necessità di scrivere questo diamond che esce fuori prepotente per... Io lo considero un po' come una scrittura, questa scrittura, come una vena sotterranea che deve cercare luce, perché ci deve essere la luce per la scrittura, però attraversa il sottosuolo, perché ovviamente si racconta, si dice l'indicibile, è quello che si ha detto, quindi è un grande specchio la lettura, la scrittura, per chi decide di mettere su pagina i propri sentimenti, perché poi alla fine Elena e Mauro, io lo dico, ovviamente è un discorso a due, c'è Mauro che è scritto da Tiziana ed Elena che è scritta da Federica, due caratteri completamente diversi, Mauro è più debole con... Basso la voce? Ti parla meglio di Mauro? Ah, quanto mi vale? Allora, Mauro è... Ma guarda che personaggi, io considero più difficili da scrivere, questi personaggi che hanno delle ombre, molte ombre, molte paure, sono complicati e sono anche quelli di cui si innamora di più, perché è inevitabile, se non conosci il buio, non vuoi vedere la luce? E lui ha tanto ombre, Mauro, ha una passione per Elena profonda, che poi si svelerà, ecco non scommi, anche puoi dire tanto, puoi vedere il libro, che si svelerà man mano nella narrazione, ed è questa, c'è questa lotta continua, no? Tra amore e odio, tra i due, che avanti pagina per pagina, e quindi ti appassiona sempre di più con dei flashback, quindi noi riusciamo a ripuscire la storia anche con questi passi all'indietro, fatti con arte, devo dire, insomma, ti accompagna in maniera superba il testo. E mentre lui c'è Elena, Elena c'è anche questo grande cambiamento, che io ho ammirato moltissimo, questo cambiamento di Elena, Elena cambia proprio per Elena, così forse anche Mauro, cioè è un continuo cambiare, cambiarsi, cambiare atteggiamento, anche modo di pensare, ma completamente, cioè spellarsi, sbucciarsi, e far venire alla luce poi quello che c'è dentro, dentro ognuno dei due personaggi, chiaramente, Mauro in un certo modo, ed Elena in un altro modo. Io, ovviamente, sono stanze, le loro, inaccessibili, se non ci fosse la pena, perché noi scrittori, gli scrittori hanno queste chiavi per aprire molte porte, che sennò rimarrebbero chiuse, quindi è sempre molto molto interessante leggere, cercare di capire, perché poi la scrittura sia di Pizziano, che di Federica, che proponga, cioè loro dicono cose, non è una scrittura fatta a caso o autoreferenziale, cioè se hai scritti di Federica, ha scritto tante, tantissime cose, anche per ragazzi, tra l'altro la letteratura per ragazzi è complicata, molto più complicata della letteratura per adulti, ha una grande responsabilità, e il Federica ha dimostrato di avere questa penna precisa, pungente quando doveva, morbida quando occorreva, quindi insomma, Tiziana ha un altro tipo di penna, più, diciamo, più cruda, più asciutta, ma comunque impattante, quindi insomma, devo dire che, io non posso dire moltissimo dei cambiamenti che accadono nel, eh no, non si può, non si può. Allora facciamo una cosa, io adesso passo la lettura, poi vi faccio qualche domanda, così, eh, ok? sì, ok? Sì, ok? Sì, Sì, 1 gennaio 2013, Elna rigirò il biglietto aereo tra le mani ancora una volta, come se fosse incapace di treverci, sentiva la testa ruota, forse perché aveva passato una notte di sonno, eppure i pensieri continuavano a presentarsi, così come le domande. Non c'era risposta, se non lo sguardo confortante del suo compagno di viaggio. Era caduto tutto in fretta, la visita a una guarda, la sua proposta di partire insieme, il turbinio di considerazioni, e la mancanza totale di soluzioni alternative, e quindi la decisione definitiva che l'aveva fatto dire, sì, berrò con te. Destinazioni impossibili, messi. A lungo lo sguardo verso il bagaglio lasciato ai piedi dell'uomo, una valigia blu di luce che l'aveva accompagnata da quando aveva 15 anni. L'aveva portata con sé anche questa volta, nonostante fosse enorme, insieme ruota in un accompagnamento diverso da quello di sempre. Gli oggetti che regalano la continuità con una vita che sta per cambiare, ma che temi di lasciare andare perché il futuro è sempre un incognito, pensò osservandola. Il nagual le toccò la mano. Tranquilla? Le chiese. Non lo sono mai stato più di così, rispose sorridendo felice. Sapeva che finalmente avrebbe avuto una vita in cui non sarebbe stato necessario il riconoscimento degli altri, non sarebbe più di pesa d'edizio e forse sarebbe riuscita a diventare se stessa. Quando fu il momento di imbarcarsi, era da guardo ai piedi, come se con quel gesto volesse salvare la terra che l'aveva vista nascita. Chissà se Mauro ha detto la meglio, pensò, e chissà se Massimo ha saputo tenere il nostro segreto. Messico, maggio 2014. Seduta su una panchina, Elena ascoltava il suo cuore contando i battiti. 43, in un minuto, la linea della bocca contratta è un'espressione simile a quella di chi mimma un'azione e non la compie. Una bambina dal vestito a fiori, le braccia abbronzate, gli occhi di Enni luce, il cuore quasi fermo grazie all'opera della meditazione che gli aveva ridato pace. Om, mormorava. Om, stava lì da circa due ore, ferma, sicura di essere in armonia con se stessa da quando aveva imparato a farsi piacere il mondo, convinto ormai di non aver tempo per la mediocrità. Quello che sentiva di avere invece erano milioni di ore tutte sue da accarezzare, riempire, lasciare andare a suo piacimento. Allora ha scelto di vivere così, fermatosi ad ascoltare, cancellando in memoria ma conservando un ricordo. E qualcosa più di quello, in un figliorifero lontano che sarebbe stato facilmente raggiunto se e quando lo avesse ritenuto opportuno. La sua seconda occasione, il regalo più bello, il passaporto per l'immortalità. Tutto in una provetta. L'era costato fatica, lacrime, determinazione, ma n'era non so la pena, sì perché così aveva spento l'ipopeta che gravava sul loro futuro, il suo e quello di madre. Ti prego Massimo, ti prego, ti prego, ti prego. Quante volte l'aveva detto? Tante. Tantissime. Fino allo sfinimento. Ti prego Massimo, devi aiutarmi, puoi farlo solo tu. Mi stai chiedendo più di quanto dovrei. L'aveva sussussurrata. Poi l'aveva portato alle spalle e se ne era andata lasciandola sola dallo sconforto di una richiesta in scluta. La prima volta era stata per telefono. Lo ricordavo ancora. Al primo accenno lui l'aveva liquidata subito. Sei pazza? L'aveva urlato, chiedendo la telefonata bruscamente. La terza volta era stata più furba. L'aveva attesa sotto il suo studio. Lui si era spaventato. Hai fatto prendere un colpo? Ti ho già detto di no. Lasciami in pace. Allora lei si era casciata su marciapietti e lui l'aveva presa dell'ombrazzo e finalmente impieto esito. Vieni, gli aveva detto progetto dell'ombrazzo. Andiamo a prendere qualcosa di caldo. L'aveva condotta del bar di fronte dove avevano sussurrato parole forti per mezz'ora. Molti avventuri conoscevano Massimo e la moglie. Chissà cosa stavano pensando vedendo di piangere. Smettila. Non potrei mai fare questo a mio fratello. Mai. Adesso dobbiamo andare. Si era alzato e vedendolo abbassare il tavo tra le lacrime aveva aggiunto vabbè, ci penso. Ci penso, va bene. Non ti garantisco niente. Ma ci penso. Lei allora aveva alzato la testa grappandosi a uno la sua mano per baciargli alla mille, mille volte. Elena non ho detto che lo faccio ho detto che ci penso. Aveva puntualizzato Massimo. Mi sembra assurdo e mi fa anche un po' schifo ma ci penso. Allora lei si è alzata e gli si era buttata tra le braccia ed era stato come se tutto il locale tirasse un sospiro di sovieno dopo aver frattenuto il fiato per quello mezz'ora. Aria. Amore e aria. Comprensione e aria. Felicità. erano andati via così lei persuasa di aver distorto un giuramento lui convinto di aver chiedito i suoi dubbi. un'altra cosa molto bella di questo romanzo sono tratti poetici c'è una ci sono poesie di Federica infatti io a te Federica volevo chiedere perché no ma sono bellissime allora io ovviamente ho letto tanto di Federica ho letto tutto ma questa penna così poetica a me era sconosciuta cioè l'amore io lo so che tu sogni l'amore ma io da quanto tempo ci conosciamo Federica veramente penso quasi dieci anni quindi c'è il mio primo libro e tu mi intervistassi a me mi hai portato tanta fortuna e quindi questo ti sono riconoscente ma questa poesia davvero tattata dentro di questa tua perché a me era sconosciuta cioè per me è stata una sorpresa l'amore insomma questi sentimenti che sono talmente forti e potenti in questo personaggio allora la bravura per me è stata di Tiziana perché io stavo attraversando un periodo particolare cioè il mio marito è lì e mi sembra anche strano dirlo però sono periodi che si attraversano sempre in una coppia e specialmente nei matrimoni lunghi nei rapporti lunghi ognuno di noi ognuno credo abbia avuto dei periodi terribili da considerare terribili e che hanno portato tanto dolore hanno portato tanto dolore e una cosa che non abbiamo detto questo gioco letterale è un atto proprio perché entrambe eravamo in un periodo terribile e quindi lei mi disse che ne pensi se ti mando una mail la prima mail è nata da questo che ti pensi se ti mando una mail in cui ti parlo di odio per l'altra persona perché spesso e volentieri lo esprimiamo addirittura con i fatti e con le parole verso il nostro compagno o la nostra compagna ma tutto quello che abbiamo dentro non riusciamo poi realmente a dirlo a noi stessi e le parole sono molto spesso alterate tant'è che uno dice ma io non lo credevo veramente invece quando si scrive si scrive quello che si ha realmente dentro e quindi Tiziana mi chiese se lo vogliamo fare se vogliamo scrivere infatti il libro all'inizio si chiamava di odio e di altri non mi ricordo aveva cambiato titolo 30.000 volte però ti odio una cosa tipo di odio una cosa che Alberto mi ha sempre detto scrivi sul dolore Alberto è stato il mio mentore Alberto della sala io era dietro di te io a lui devo moltissimo di quello che sono io gli dico sei l'unico uomo della mia vita questo per farmi capire e lui mi ha sempre detto scrivi sul dolore quindi questa doppia cosa di Tiziana e di Alberto che ha portato a scrivere quello che io veramente sentivo dentro che poi magari non sono perché non lo so io se lo sono meglio non so se sono così poetica se sono così piena d'amore io non lo so quello che sono ma però quando lo scrivo lo so fare alla fine ci riesco e quindi è venuta fuori questa Elena molto poetica quella che forse io vorrei essere non lo so anche se io poi alla fine Elena l'ho odiata l'ho odiata proprio perché io amavo Mauro come personaggio quindi quando lei mi mandava le mail io le aspettavo proprio ma com'è io ce l'ho mai la testa ma cosa non mi hai scritto perché poi questa corrispondenza è durata sei mesi poi ci abbiamo messo sei anni per scrivere tutta la cornice e farlo diventare un libro perché soltanto le lettere non potevano essere anche se la parte più bella su delle lettere alla fine però io tra i due amavo Mauro non amavo Elena io Elena alla fine l'ho trovata pure troppo costruita quindi ha fatto ha fatto un percorso di vita similare al mio perché chiaramente Elena e molte cose sono stata io o quello che io avrei voluto fare in un periodo in cui stavo tanto male che invece non ho fatto facendo altre scelte però poi per me il personaggio forse era male poi io credo tu abbia comunque elaborato poi perché tu Elena taglia i capelli togli i tacchi cioè sì 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 lo vabbè io ora sto mettendo le scarpe di ginnastica ma che è la prima volta nella mia vita ho comprato un paro di le scarpe al di fuori della palestra quindi ora le sto mettendo i capelli non meritare io stamattina mi sono accorciata le unghie stamattina mi sono accorciata no però no questo non cambierò mai almeno spero di non cambiare mai questo tipo di percorso non lo voglio assolutamente fare ecco quello è fatto una parte romanzata ma non voglio vabbè volevo chiedere a entrambe che cosa Mauro non ha detto ad Elena che avrei dovuto dirle Elena non ha detto a Mauro sì inizio una specie di intervista dubbia buongiorno a tutti buona domenica sono contenta perché fondamentalmente mi dico sempre che Elena e Mauro ci sono ma sono sul libro mi diverte mi rincuora e mi emoziona che invece Tiziana e Federica ci sono e ci saranno sempre quindi questo per me è un momento importante poi mi mi fa piacere pensare cosa la comandata cosa Mauro non ha detto a Elena e avrebbe voluto dirle e viceversa è un libro devo dire è che è un libro di odio perché Mauro inizia io sono ma io sono ma io sono ma Mauro inizia dicendo ti odio e quanto mi sono divertita e quanto mi sono sentita soddisfatta odiando io auguro a tutti di poter provare questo odio perché l'odio che si dice il contrario dell'amore mi ha consentito anche durante la stessa scrittura di produrre energia quindi più odiavo Elena più scrivevo più soprattutto capivo quello che mi stava accadendo a me come autrice e a me come Mauro tra virgolette personaggio ed è stato un momento molto intenso quando io odiato il mio Mauro perché c'è una cosa che Mauro non è capace di dire e forse anche funziona perdonami Mauro abbiamo fatto una guerra meravigliosa d'Evera ma davvero ho letto l'ho riletto in questi giorni una cosa che ho detto a Federico ma che bellino che lo abbiamo scritto quasi inconsapevole siamo state fortunate in un momento che la vita dove fare cose vecchissà quel secondo ma non verrà bello come questo comprate questo perché secondo non verrà bello come questo però fondamentalmente sono rimasta colpita da Elena perché leggere Federica quando tu la scrivi e la stai facendo insieme cioè io sono sempre colpita per capire se io faccio bene o no l'amore devo chiedere a qualcuno viene a fare un video nella mia camera da letto siete concordi mia amici di qua grazie a me no ma è vero perché non lo so come faccio l'amore se non lo doverono a dire o a filmare ed è la quindi visivamente ci vediamo venuti però è divertente invece pensare che quanto le fosse non solo brava perché poi forse bravi a scrivere quanti ce ne sono tantissimi ma quanto lei mi ha dato in questo libro con Elena il messaggio del reale cambiamento cioè Elena in questo libro è il personaggio che davvero fa quello che si dice in America il yes I can Elena è stato il yes I can e questo me ne sono accorta poi dopo allontanandomi da Elena e da Federica quindi devo dire che sono grata a Federica perché è sicuramente una pagina bella sono grata anche a me stessa perché bisogna amarsi io mi voglio bella sal ma io sono quasi innamorata di me devo dire però stamattina ho detto caspita ma come sei simpatica ho avuto un momento di gioia con me stessa su ci dici come sei simpatica e dico come sono bella no Federica sono anche bella non l'avevo detto che lo scatta l'applauso e dico quanto sono bella io potete fare un applauso e poi invece ringrazio me stessa oltre che ringraziare perché Mauro Mauro mi ha dato quello che a me mancava e l'ho scoperto scrivendolo attraverso Mauro Mauro mi ha dato il silenzio perché io sono una che parla un sacco parla troppo a volte a bandera e sono anche molto bronissa mamma mia quando parlo a volte non mi amo per questo suo sono un chiacchierone incredibile Mauro spesso forse lo desideravo attraverso il mio personaggio Mauro è quello che ricerca invece la sua tutta il silenzio Mauro per tutto il tempo diceva voglio voglio silenzio voglio stare da solo quindi io forse finalmente grazie a questo libro ho imparato a parlare no non solo c'è una presentazione tutta vado a parlare un po' di meno questo è quello che non ti ho detto del perdono la domanda è tua adesso cosa dice Elena che cosa non dice Elena Mauro alla fine essendo io tante cose non dice perché come vi ho anticipato prima io non so chiedere non lo so fare e spero che mi venga dato dalle persone a cui voglio bene e quindi Elena aspetta aspetta tutta la sua vita sicuramente nelle mail si svela nelle mail però non svela mai la sua richiesta non lo fa mai e quindi se Elena avesse parlato nelle coppie succede succede che non si dicono le cose incompresi ma tu mi devi capire ma tu se mi vuoi bene lo sai lo sai io come sono fatta invece Elena e Mauro nonostante questa quest'ultima cosa per cui si scrivono queste mail lo fanno per mutarsi addosso l'odio non lo fanno per chiarirsi quindi nelle mail ci sono tantissime mancanze tante cose che continuano a tenere nascosto l'una all'altra ma anche a loro stessi quindi Elena per me è stata un po' una vigliacca è stata molto vigliacca per quanto mi piaccia questa figura e io mi ci riveda perché in questi sei anni anche io mi sono ricostruita ho contribuito ad aprire questa splendida realtà con Canale 21 le mie collaborazioni questo è il quarto libro e non so quante antologie e quanti racconti voglio dire ho scritto continuo a scrivere mi chiedono 3.000 riviste sala librellula qua è il direttore della librellula con cui collaboro quindi faccio rispetto a quello che non facevo 7 anni fa oggi sono una donna 8 anni fa oggi sono una donna completamente diversa quindi come Elena sicuramente però forse la parola a volte è necessaria quindi non che cosa non gli hai detto ma tutto quello che Elena si è tenuta per sé e che ha creduto che invece fosse naturale che Mauro sapesse ma di naturale in un rapporto specialmente quando un rapporto finisce non c'è niente ci sono soltanto incomprensioni d'altra parte non ci si può capire nella maniera più assoluta quando un rapporto finisce si parlano due lingue completamente diverse l'unica cosa è andare da un intermediario trovare un avere la la bravura di andare in analisi o psicologo da qualcuno che parli una terza lingua e che riesca a insegnare l'alfabeto non lo so è scemito a dire ma no non è nato non è nato perché a volte invece di andare da un mediatore a volte sono i pochi anche un amico gli amici vogliono bene all'uno all'altro tutti e due non riescono mai a rimanere indifferenti alla cosa essere razionali mentre invece un mediatore familiare qualcuno ma noi stiamo ancora molto lontani erano esse in Italia insomma un po' di noi infatti io per esempio mi sono molto arrabbiata su alcuni passati volevo capire dove voleva arrivare con una delle sue comunzioni Elena dove voleva arrivare Mauro ma volevo chiederti una cosa come mai sei anni poter mettere appunto perché lei è legno no e ce la vita dice perché lei per lo meno una mia curiosità mi sto qui finalmente like finalmente ci possiamo vedere insomma arriviamo per me era pronto lei mi fa al telefono no bisogna rivederlo adesso vengo veniva dal buono l'ho fatto un sacco di volte si metteva in macchia l'ho in casa mi appozzò e faceva rileggiamo vediamo però devo dire questa cosa invece poi oggi alla luce no di quello che oggi c'è va bene sì è perfezionista poi un po' la pandemia un po' abbiamo non abbiamo momenti grazie un po' la pandemia un po' il resto si era limitato questo è perché lei è perfetta sentiamo però cosa risponde parlando di stessa no no si è stata però io più professionale come sempre no perché nella mia cosa di perfezione che tutto doveva essere questo libro è stato mandato a una serie di case editrici e tutti quanti dicevano bellissimo così lo pubblichiamo immediatamente io dicevo se mi hanno detto che non c'è un editing sopra significa che non è una case editrice seria quindi abbiamo respinto la richiesta di 3.000 case editrici fino a che Rosa Gargiulo non ha deciso di prendere in mano a lei la situazione che dal primo momento ci ha creduto per questo libro per cui è cominciato un tagli e pucci incredibile e ho detto io vedete se così ti stai zitta e quindi ci ha proposto a questa case editrice giovanissima in 3.000 edizioni di Lucia Pasquini che ringraziamo mi dispiace speravo di poterla conoscere oggi e quindi alla fine abbiamo ho detto ok ho dato il Sistambi anche con con Rosa ci ha messo più di un anno a dare il Sistambi me lo sono me lo sono letto alla rovescia credo dieci volte lo so lo so recitare al contrario quindi immagino va bene grazie questo è vero Rosa lei era un po' capito è vero molto diverso è importante sono evitore sono stordata ma voglio anche se qualcuno di voi ha qualche domanda buongiorno a tutti allora io vorrei soltanto fare gli auguri di cuore a Federica a Patriziana perché abbiamo raggiunto secondo me un traguardo importante questo libro è stato molto desiderato curato davvero loro sono due persone molto diverse e anche chiaramente questo si difette nella loro scrittura che si è intrecciata secondo me in maniera veramente profonda intensa e anche per questo c'è stato da parte di Federica e Veneziana un grande lavoro perché non è stato un semplice lavoro sul testo era davvero una parte di loro quello che hanno scritto e quindi diventa ancora più difficile lavorare e decidere ok lo pubblichiamo hanno fatto un grande lavoro sono state in grana io le ringrazio per la fiducia che mi hanno accontato e auguro veramente un grande successo perché è un bello amoso grazie allora vedo le prime due mail che protagonisti scambiano sì sì mail da Mauro Paggio a Elena Borrelli sabato 29 settembre 2012 ho deciso di scriverti affinché le mie parole restino come statue granitiche immobili nei meandri della tua mente un confine per me invalidabile e non a causa della mia incapacità di scassinatore emozionale ma per il tuo naturale atteggiamento di chiusura sei lontano sei silenzio sei irraggiungibile ora ancora di più ed è una foria che mi porta a guardare a guardarti a guardarci indietro nel tempo chi sei stata tu chi sono stato io cosa siamo stati insieme adesso lo so questa lontananza mi ha portato a vederci chiaro a riconoscere il passato e immaginare il futuro averti accanto è stato come un lungo viaggio tu sei stata una valigia che il giorno dopo giorno si riempiva e si appesentiva ho trascinato il tuo peso per chilometri di vite adesso mi fanno male le braccia le gambe tutto il corpo sono stanco mi fermo qui in questa stazione di scrittura iniziando un cammino diverso da solosi senza bagare libero il nostro matrimonio è stato una salita con me un passo avanti non ho corso o parato semplicemente tu eri più dentro distratta quasi infastidita da un percorso che invece prevedeva un cammino sincronizzato i tuoi tempi sono sempre stati regolati dall'orologio del tuo egoismo siamo lontani separati la nuova domestica e se ben in questo momento avverta la tua presenza in casa e ve li scostrime perché le parole si infrantumano come specie di polvere ti odio devo confessare che ti odio al primo giorno in cui ti ho incontrato perché l'odio si è affiancato all'amore e poi l'ha assalito l'ho orientato fagocitato il mio sorriso la mia stretta di mano significavano piacere Mauro sei bella profondi di vaniglia e lo sguardo che raccoglie tutti i paesaggi del mondo che vorrei visitare la tua stretta invece sembra distratta e lenta sussurrasti Elena guardando oltre le mie spalle mi sono sempre chiesto cosa ci fosse dietro di me quella sera oltre guardi oltre mentre avrei voluto i tuoi occhi sulle nostre scarpe durante le passeggiate in montagna ho rallentato il passo così come il battito del mio cuore odio tutto di te anche quando non mi rispondo al cellulare ogni squillo dico in i miei denti e penso a come sei stronza lo lasci squillare cercando di provocare la mia gelosia ma io non sono gelosia ma sono schifato perché quando che in i miei denti per amistio